In effetti io ho fatto un regalo a tutto il mio calcio minuto per minuto, ecco io l'ho chiamato proprio tutto il mio calcio minuto per minuto ed è edito da Baldini e Castoldi perché io ero lì quando abbiamo cominciato, 61 anni fa io ero presente e quindi credo di avere contribuito in una certa maniera al lancio di questa travolgente trasmissione che poi praticamente ha sovvertito, ha cambiato tutto il calcio dell'epoca e ha fatto nella sua maniera, nel suo modo tutto un altro calcio che praticamente tutta l'Italia seguiva, milioni e milioni di persone, di ascoltatori la domenica dalle 14.30 era attaccata alle radioline proprio per sentire tutto il calcio minuto per minuto, in effetti tutto il calcio secondo me non morirà mai. Grazie